buongiorno a tutti dall'assonamanica.com oggi andiamo a vedere la carta che schiocca è un gioco di ritrovamento piuttosto classico dove però userò una nuova tecnica sia per la dispersione sia per il ritrovamento della carta il gioco come tanti altri giochi si presenta della stessa maniera il mazzo viene mescolato spezzato e viene fatta pescare una carta a caso allo spettacolo la carta viene come al solito guardata ricordata e poi si proseguirà nello disperderla all'interno del mazzo la carta a questo punto viene dispersa viene il mazzo viene spezzato il mazzo viene mescolato e di nuovo spezzato a questo punto si andrà a una ricerca di tipo tattile a tatto andremo a cercare la nostra nuova carta queste no no queste no questa eppure sembrerebbe proprio questo questo gioco finisce qui semplice un bel ritrovamento innovativo fresco e adesso andiamo a spiegarvi come funziona il gioco ed eccoci al tutorial della carta che schiocca questo è un classico gioco di ritrovamento come ho detto abbiamo impostato nuova maniera di dispersione della carta di controllo quindi sia di riapparizione una specie di color change che però ha una particolarità dei limiti che cerchiamo di superare attraverso la nostra storia che inizia come tanti altri giochi abbiamo detto facendo pescare una carta qualsiasi al spettatore prima possiamo dargli anche il mazzo da mescolare non è necessaria naturalmente nessuna forzatura per cui andiamo a pescare una carta qualsiasi 4 dp e andiamo a disperderla nel mazzo a questo punto poi effettueremo un controllo in cima al mazzo il controllo che ho usato io è una dispersione attraverso ventaglio la carta viene richiusa e con un colpo del polso viene portata leggermente in in jog come potete vedere in maniera tale che nel momento in cui andiamo a richiudere il mazzo possiamo porre un break appena sotto la carta dopodiché con un triplo taglio andremo a portare la carta sul fondo e con un miscuglio nel cavolo della mano avremo finalmente la carta in cima a questo punto è abbastanza semplice spezzare e porre un break diciamo sopra la carta scelta dello spettatore inizierà a questo punto la nostra la nostra discussione il nostro la fase del ritrovamento della carta diremmo che è un ritrovamento tipo tattile e andremo a diciamo assaggiare alcune carte buttandole qua la sul tavolo ora visto il tipo di color change che vi andrò a proporre questa fase in realtà non è superflua ma è necessaria è necessario disperdere sul tavolo quante più carte possibili diciamo poi avrete più chiaro perché ogni tanto ne svolgete una per abituare la gente a diciamo questo movimento diremmo che anche questa è la carta sbagliata e l'andremo a ficcare sul tavolo in questa maniera dunque anche questa è niente anche questa è niente ogni tanto tirate fuori una carta no anche questa non c'entra nulla e baffa la sbattete sul tavolo e fate così fino ad arrivare alla ultima carta sopra il break a questo punto avremo la carta sottostante che è la carta scelta dello spettatore andremo a rifare questa manfrina un'anessima volta però prima andremo a mettere in break l'ultima carta quella dello spettatore in maniera tale da poter diciamo prendere tutte e due le carte contemporaneamente come fossero una sola e andremo di nuovo a posa a posizionarle diciamo su in questa maniera sul mazzo come abbiamo fatto le altre volte sotto che questa volta nel momento in cui andremo a schioccare la carta si rigirerà andando a far vedere proprio la carta scelta dello spettatore dunque anche questa volta la carta sembra quella sbagliata eppure basterà uno schiocco appunto per farla scendere e in questa maniera andremo a finire il nostro gioco come avete capito tutto questo tappeto di carte serve appunto perché nel momento in cui noi andiamo a cambiare la nostra carta con questo simpatico color change ovviamente la carta da sopra il 7 di picche si girerà su se stessa tutte e due le carte gireranno verrà messa in mostra il 4 di picche e il 7 di picche invece si andrà a nascondere diciamo nel tappeto di carte che abbiamo già steso questo è tutto la carta schiocca per voi spero vi sia piaciuto per cui mettete un bel mi piace qui sotto guardate in descrizione vi metto il link per acquistare il nuovo bellissimo mazzo di shinlin in vendita presso l'asso nella manica punto com e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto grazie e alla prossima